Benvenuti in questo nuovo video di Rainbow Six Siege Mamma mia, credevate che non portassi più Rainbow, eh? Credevate? E invece sì, ci risiamo C'è stato un attimo, tra virgolette, un contrattempo con FIFA Cioè FIFA è arrivata e ha detto Volevo io il posto di Rainbow Six Siege È venuto un attimo dopo i pack opening Ci siamo a trovare i pipponi Come è logico, cioè è matematico Vado a scuola, faccio due più due Viene i pipponi, ti devo uscire, quindi va bene Siamo qui con l'operatore caccia che non ci stiamo facendo Ah, c'è anche Tavera nella barlette, quindi tutti a scuola Allora, dentro Prima partita del giorno, eh? Quindi non vi assicuro niente Anche se abbiamo fatto una kill Così, a casa Quindi proviamo un po' Ok, sono in questo posto Più sfigato di non so cosa Quindi 5-3 Sì! 40! Se poi non fate così vi fate un piacere enorme Dai! No! Eh Almeno due kill Ce ne siamo portate a casa Tatticalmente! Dai E prendetelo No 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 Dai E lì Che bravo Scusate se l'audio Era un po' basso ma c'avevo L'archetto su non me ne ero accorto Scusate lo sapete come sono io Un mongoloide E quindi ci vediamo al prossimo round Ed eccoci qua Nel secondo round Operatore mute perchè c'è di legge Scusate prima Se c'era l'audio così ma Dovete prenderla Con un morisco Dovete prendere con un morisco Oh Per la prima Partita La mira non è a banane Buono Sono dall'altra parte C'è Ciao Minchia Minchia Riferimento Buono Stiamo qua Adesso arrivano Eh? Sta prendendo il contenitore Porta sfrancata No, 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 io devo tornare Sì Eh Round perso Ma Ma Perché 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 Eccoci qua Terzo round 1-1 Speriamo non sponchillano Perché Solo io posso Sponchillare Oddio Facciamo così Agiriamo Proprio male Oddio Madonna mia Un deficiente Sto qua È Deficiente Ma Cosa hai fatto 3-3 Oddio 2-3 1-3 Bello Il tuo Uno per gli altri Ce l'hai lì Ma che riflessi C'hai Ma una capra Con Il manumpad Fa meglio Di te 4-2 Sto facendo Rimangono 15 secondi Attività nemica Neutralizzate la minaccia Ce la puoi fare Rimangono 10 secondi Uh Uh Cosa fai Eccoci qua Eh Operatore Valkyrie Siamo nella lounge Però Non è buono qua Non è per niente buono Avete visto prima come Li abbiamo sfondati O comunque Da qua Se Gli attaccanti Mirano lì E qualcuno Come Polo C'è Qua E muore subito Quindi Dato che Ho visto che la mia squadra Si può comportare bene Però qua Quando Certe volte Può fare delle Cagate pazzesche Ultrasoniche Quindi Forse Non lo so Non lo so Ressano 5 secondi Il nemico Ha individuato Il contenitore Di biorischio Così Sperando Non mi killino Killino Che 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 parola è Questa Non posso più Toglierla Qui va bene Diamo un attimo Bella Mi gusta Un attimo Di far qualcosa Diamo Allora c4 in posizione c4 in posizione c4 in posizione c4 in posizione 812 dov'era? dov'era il polle? il polletto dov'era? ah era lì quante me ne son fatte? una due tre tre? eccoci qua sono solo due due dai operatore jackal jackal ok io proverei ma scusate è montagna da sole che senso ha? vabbò scommettiamo che adesso muoio sull'idea dov'è? cosa? cosa? andiamo un attimo la fredda è vicina tracce pulite le seguo nooo quando devo tagliere? cosa? cosa? c'ho 119 di connessione e lui 70 va bene eh va bene mi ha preso in testa 2 contro 4 eh 2 contro 3 1 contro 3 aia ma cosa spari? sto qua sta male bravo questo qua non ha ancora capito cos'è su rainbow questo qua non ha ancora capito cos'è rainbow no 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 raga non ci siamo non ci siamo è dietro ce l'hai dietro poi ce l'hai dietro ah no non ce l'hai dietro lo sentivo però oddio ma è pazzo sto qua è lì l'altro è la ciao è finita per lui oddio ha fatto come si chiama? non mi ricordo come drop shot o comunque aiutatemi sotto nei commenti comunque guardate boom 13 di vita tipo una roba del genere eccoci qua speriamo ultimo round operatore rock perchè voglio stare un attimo più calmo quindi proviamo a mettere uno scudo qua se lo metto bene ok e andrà un po' in giro la nabbezza più che la nabbezza bravo più che la nabbezza l'ignoranza bravo 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 ti do una medaglia ti do due medaglie e la madò ultimo nemico rimasto vieni aiutami infame mi rubire chi come se fosse almeno son primo grazie mille bella vittoria alla difesa 9 2 3 beh dai un punto giù buono si può accettare e neanche lui se lo aspettava vabbè grazie a cazzo quindi ragazzi io per questo ritorno su rainbow che prima partita del giorno quindi potete capire che potete andare in classificata tranquillamente anche se non avete potete andare in classificata anche se la prima partita secondo me secondo il mio parere quando prendiamo sempre bronzo 2 siamo sempre in quella lega perché praticamente poi con i miei amici scendiamo facciamo i coglioni quindi uno schiaccia a classificata uno e non ci accorgiamo andiamo in classificata poi perdiamo 4 a 0 quindi io direi che per questo episodio uscirà un video del viaggio quindi niente aspettatevi altri contenuti iscrivetevi mettete like e alla prossima bella ciao 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 ciao